Cari amici, c'è stata questa gaff, quindi assolutissimamente presenti per raccontarla, riguarda Federica Panicucci. Lo so, ogni tanto capita anche a lei. Quindi, cari amici, anche nella giornata di oggi, venerdì 13, no perché porta sfiga al giorno, attenzione, ma nella mattinata andate in onda una nuova puntata di Mattino 5. Come già sapete, lo sapete, che il contenitore di attualità e cronaca è condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, che come sempre, come al solito, hanno lanciato diversi servizi, dai prezzi dei carburanti fino a un'aggressione nei confronti di una dottoressa a Udine e tanto altro ancora, ospedali, scuole, prese di mira da gente che non c'è niente da far pomeriggio, insomma cose così. Il programma però sta ottenendo, come spesso accade, insomma buoni risultati di ascolto, con punte di 24% di Cher, che è abbastanza, perché parliamo di più di un milione di telespettatori che stanno guardando, e la coppia, composta da Federica e Francesco, diciamo che funziona come coppia, anche se non troppo tempo fa i due confessarono di non essere amici oltre che colleghi. No, no, non siamo migliori amici, queste proprio le parole del giornalista. In ogni caso, nel corso dell'appuntamento odierno, la Panicucci ha avuto ben altro a cui pensare. A un certo punto, a mattino 5, si è parlato anche della ragazza segregata e legata in casa dalla mamma. La giovane in pratica sarebbe stata tipo sottomessa, anche dai fratelli, cose brutte, insomma, ma è un bruttissimo fatto avvenuto ad Aiello del sabato, provincia di Catanzaro, e qui il sindaco ha invitato i coincittadini a non rilasciare dichiarazioni alla stampa. Quindi, di fronte a questa decisione, Federica Panicucci ha mostrato le sue perplessità al riguardo. Comunque sul posto c'è l'inviato del programma, che invece riesce a parlare con alcune persone. Nel porre la domanda, però, attenzione, perché il giornalista commette questa particolare gaff. Come l'avete presa in paese questa richiesta di silenzio da parte del sindaco? Perché sembra di stare in un paesino della Sicilia invece che in Irpinia? Ma appena pronunciata la frase, l'inviato si rende conto della gaff e cerca di por di rimedio, dicendo, con tutto il rispetto dei paesi della Sicilia, ovviamente, sono anche molto belli. Ma a quel punto, tuttavia, è stata Federica Panicucci ad intervenire. No, 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 Paolo, ti stavo infatti venendo in soccorso perché onestamente non userei queste parole nei confronti della bella Sicilia, assolutamente, ma neppure di Aiello. E la stessa conduttrice ha parlato del fatto che in realtà le persone parlano e dunque non c'è un comportamento omertoso. E anche perché, ha aggiunto e ha detto, il sindaco chiedeva semplicemente di spegnere un pochino i riflettori su questa vicenda assai intricata. Ecco, diciamo che questo era il senso. Comunque, questo è tutto per quanto riguarda questa news. Vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi aspetto in un prossimo video, sempre su Pausa Caffè. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina.